Enno Di Francesco, dopo aver radito il giudice del lavoro, ha esperito via via cinque ricorsi amministrativi, vincendo gli ultimi quattro, riferiti ai consigli di amministrazione degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003. I giudici del Tar del Lazio, nelle sentenze depositate nel luglio 2004, scrivono attraverso l'attribuzione discrezionale di un punteggio svincolato da qualsiasi parametro, o meglio, fittiziamente ancorato a determinati parametri, si dà luogo nella sostanza a una valutazione per precostituire il punteggio globale al di fuori di ogni controllo di legittimità. La discrezionalità, continuano i giudici, non può dilatarsi sino al punto di trasformarsi in arbitria. Per il contenzioso, che dura da oltre vent'anni, è stata fissata una prossima udienza in Cassazione il 27 aprile del 2021 di quest'anno.